Durante il maltempo che sta imperversando in regione Campania arriva l'allarme di lega ambiente. In Campania sono 60 gli eventi estremi, tra cui 23 danni da trombe d'aria, 14 allagamenti da piogge intense, 16 episodi di danni consistenti a infrastrutture o al patrimonio storico a causa del maltempo, 5 sondazioni fluviali e 2 frane. Piove fango sulla Campania e non possiamo sempre pensare al destino cinico e baro. La frana di Amalfi, come quelle nel Cilento, sono la dimostrazione che serve un cambio delle politiche di fronte a fenomeni di questa portata. L'Italia è oggi l'unico grande paese europeo senza un piano di adattamento al clima, per cui continuiamo a rincorrere le emergenze senza una strategia chiara di prevenzione, senza dimenticare che il cambiamento climatico e il dissesto idrogeologico sono due facce della stessa medaglia. In Italia dal 1999 al 2019 sono stati 6.303 gli interventi avviati per mitigare il rischio idrogeologico, per un totale di poco meno di 6,6 miliardi di euro. La Campania è tra le regioni che hanno ricevuto i maggiori finanziamenti, ben 486 milioni di euro per 381 interventi, ma nonostante ciò si conferma una regione dai piedi di argilla. È evidente, conclude Maria Teresa Imparato, che qualsiasi pianificazione territoriale dovrebbe tenere in forte considerazione la componente climatica che amplifica eventi naturali, quali frane e alluvioni, e si somma a una serie di fattori come consumo di suolo, impermeabilizzazione, espansione urbanistica, erosione costiera, conservazione delle aree naturali, tutti elementi che devono necessariamente rientrare in una logica di programmazione efficace, da fare bene e subito.